Stadi e manifestazioni calcistiche vietate per 5 anni per l'ex presidente del Catania Antonino Pulvirenti e l'ex AD Pablo Cosentino. Lo ha disposto il questore Marcello Cardona che ha firmato il DASPO per ordine pubblico a carico dei due dirigenti indagati nell'ambito dell'inchiesta ai treni del gol su alcune partite comprate dal Catania per evitare la retrocessione dalla Serie B. Accertamenti sono stati eseguiti da divisione anticrimine e DIGOS. Il questore di Catania ha anche avviato il procedimento amministrativo propedeutico all'emissione di un analogo provvedimento di DASPO per altri 5 indagati che sono tuttora gli arresti domiciliari. Si tratta di Fernando Antonio Arbotti, Daniele Dellicarri, Piero Di Luzio, Giovanni Luca Impellizzeri e Fabrizio Millozzi. Il questore Marcello Cardona ha spiegato che il provvedimento interdittivo trova pieno fondamento nel reato di associazione per delinquere finalizzata alle frodi sportive che è stato contestato agli indagati dalla Procura della Repubblica di Catania. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per Bulbirenti e Cosentino è stato emesso anche perché è stato sottolineato oggi in conferenza stampa, ne stiamo vedendo le immagini. Si è registrato a livello mediatico un imponente e preoccupante coinvolgimento di persone sfociato il 20 giugno scorso in una manifestazione di protesta alla quale hanno partecipato 2.500 persone che scandivano cori e slogan contro Bulbirenti e altri dirigenti del calcio Catania. Proprio alla luce del diffuso malcontento registrato nella tifoseria locale, sottolineano dalla Questura di Catania, si ritiene che la semplice presenza di Bulbirenti negli impianti sportivi dove gioca la squadra etnea possa rappresentare un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il DASPO si ribadisce quindi è emesso per preservare Bulbirenti, Cosentino e tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria da concreti rischi per la propria incomunità. Ed è iniziato con circa un'ora di ritardo intanto il processo sportivo alla calcio scommesse sul caso Catania perché come sappiamo c'è anche la giustizia sportiva che si sta muovendo in queste ore. Tra gli imputati dinanzi al Tribunale federale nazionale della FIGC allestito presso un hotel romano ci sono il Club Etneo, deferito per doppia responsabilità diretta e oggettiva nella presunta combine di sei partite che hanno consentito la salvezza in Serie B, il patron Antonino Pulbirenti, l'ex AD Pablo Cosentino, il dirigente Piero Di Luzio e l'agente dei calciatori Fernando Antonio Arbotti. L'inizio del dibattimento è stato posticipato a causa di un contrattempo legato al volo che da Torino ha condotto a Roma il Presidente del Tribunale Sergio Artico. E quindi più tardi nella seconda edizione del nostro telegiornale sapremo dirvi quali sono le decisioni della giustizia sportiva. Intanto la Virtus Entel è stata ammessa come parte terza al processo sul caso Catania in corso a Roma. Il Club Ligure, che nella scorsa stagione ha perso il play-out di Serie B, è stato ritenuto dal Tribunale nazionale della FIGC portatore di interesse sussistente nel procedimento che vede la società etnea deferita per doppia responsabilità diretta, oggettiva e presunta nelle sospette combine di sei match che hanno permesso ai rossazzurri di conquistare la salvezza in Serie B. E adesso... Grazie 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 Grazie